In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen, Sialodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, questa sera vorrei parlarvi dell'anno liturgico come è suddiviso nel Betus Ordo. Però innanzitutto non abbiamo la suddivisione a cui eravamo abituati tra tempi forti, Natale, Pasqua, Avvento e Quaresima e tempo ordinario. La suddivisione è invece in cicli. Ci sono due cicli, il ciclo natalizio, ciclo di Natale, e il ciclo di Pasqua. Il ciclo di Natale prevede tre tempi e quello di Pasqua cinque tempi. Veniamo al ciclo di Natale. Il ciclo di Natale prevede il tempo di Avvento, dalla prima domenica di Avvento fino alla vigilia di Natale, 24 dicembre. Il tempo di Natale inizia dal 25 dicembre fino al 13 di gennaio, cioè fino alla conclusione dell'ottava dell'Epifania. Il tempo dopo l'Epifania inizia il 14 gennaio e termina la domenica di Settuagesima. Questo è il ciclo di Natale, suddiviso, come vi ripeto, nel tempo di Avvento, tempo di Natale e tempo dopo l'Epifania. Il ciclo di Pasqua è più articolato. Abbiamo il tempo di Settuagesima, da Settuagesima fino al Mercoledì delle Ceneri. Il tempo di Quaresima, dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Domenica di Passione. La Domenica di Passione è quella che precede la Domenica delle Palme. Ecco, la Quaresima, no? Dalle Ceneri alla Domenica di Passione. Poi abbiamo il tempo di Passione, dalla Domenica di Passione a Pasqua. Poi abbiamo il tempo pasquale, da Pasqua fino alla Festa della Santissima Trinità. Infine, il tempo dopo Pentecoste, che inizia con la Festa della Santissima Trinità e arriva all'Avvento. E quindi si ricomincia il ciclo di Natale e così via. Appunto si chiamano cicli perché è un ritornare di nuovo su se stessi, nel ripetere le stesse feste e le stesse celebrazioni. Questo è l'anno liturgico nella suddivisione del Vetu Sordo, a cui non siamo ancora abituati, ma ci stiamo abituando. In questo momento siamo nel tempo di Quaresima. Abbiamo celebrato ieri, il mercoledì, delle Ceneri. Questo tempo di Quaresima cosa dovrebbe essere? Nell'idea della Chiesa, il tempo di Quaresima è un ritiro spirituale generale, rivolto a tutti i fedeli della Chiesa Cattolica, dispersi in tutto il mondo. Siamo uniti nel compiere questo ritiro, grande ritiro spirituale, che si chiude quando? Si chiude nella prossimità della Pasqua, come vi ho detto prima con la Domenica di Passione, ma poi anche con la Pasqua, con la confessione e la comunione pasquale. Vi ricordo che il terzo precetto della Chiesa, il terzo dei cinque precetti della Chiesa, dice così, confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno per Pasqua. Quindi la confessione e la comunione di Pasqua chiudevano, dovrebbero chiudere, il grande ritiro della Quaresima. Quali sono le opere che la Chiesa ci insegna a compiere in questo grande ritiro? Innanzitutto fare morire in noi l'attaccamento al peccato, la morte del peccato in noi. Quindi lottare contro i nemici più grandi, che sono l'orgoglio e l'amor proprio. coltivare lo spirito di preghiera. Attenti bene, ho detto lo spirito di preghiera, cioè il modo di pregare. Meditare assiduamente la parola di Dio. Praticare il digiuno, l'astinenza, la mortificazione dei sensi. esercitare un maggiore distacco dai piaceri e dai beni terreni. Essere più generosi nelle opere di carità. astenersi dalle feste mondane. Ecco, ho fatto un elenco di cose a cui la Chiesa ci invita in questo periodo di Quaresima, per compiere un buon ritiro generale. La parola che lega tutto insieme queste attività quaresimali, queste opere quaresimali, è la parola penitenza. Devono essere compiute con spirito di penitenza, perché il Signore ascolta l'animo penitente e viene in soccorso. Vi leggo per concludere ciò che scriveva il Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini, nel 1700. L'osservanza della Quaresima è il vincolo della nostra milizia. Siccome i cristiani sono la Chiesa militante sulla terra, il vincolo che ci lega, dice il Papa Benedetto XIV, è l'osservanza proprio della Quaresima. Per mezzo di questa distinguiamo i nemici della croce di Gesù Cristo. Ecco, si vede chi è veramente dalla parte di Gesù oppure è nemico della croce, proprio dall'esercizio della Quaresima. Per mezzo suo allontaniamo dal nostro capo i castighi della collera di Dio. Con essa, protetti dal celeste soccorso durante il giorno, ci fortifichiamo contro i principi delle tenebre. se questa osservanza viene a rilassarsi, cioè viene abbandonata, è a tutto detrimento della gloria di Dio, a disdoro della religione cattolica, a pericolo delle anime cristiane. e senza alcun dubbio, questa negligenza diviene fonte di disgrazie per i popoli, di disastri nei pubblici affari e di infortuni per quelli privati. Pensate quanto è importante vivere bene la Quaresima, cari fratelli, per poter ricevere abbondantemente le grazie del Signore. Sia lodato a Gesù Cristo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. e buona Quaresima a tutti.